Il cammino verso la Serie C 2021 mette sotto i riflettori dei due pugliesi che meglio si sono comportate durante l'ultima stagione. Il nuovo Bari di Gaetano Auteri è in ritiro a Caccia, il rinnovato Monopoli di Beppe Scienza, e alle prese con carichi di lavoro importanti, e lo dimostra la vittoria di misura nel primo test in ritiro a Villadagri. In Umbria i biancorossi stanno per creare la squadra che punterà la Serie B per il secondo anno consecutivo. In tanti sono a caccia di un ruolo di spicco nel Bari che verrà, ma il nuovo tecnico e la società stanno facendo le adeguate valutazioni sulla base di quanto sta emergendo sul campo. I primi giorni di lavoro sotto gli occhi del patron Luigi De Laurentiis hanno permesso di fare i primi passi in avanti, ma molto dipenderà dai dettami tattici di Auteri e dai prossimi interventi sul mercato. I tempi ancora dilatati per l'inizio della stagione permettono di ragionare sul da farsi ancora con un po' di calma. Gialle è prese con la prima amichevole invece, il monopoli di scienza. La mole di lavoro nel ritiro di Villadagri si fa sentire anche durante il test con la polisportiva Santa Maria, squadra che sarà impegnata nel prossimo gironei di Serie D. Campani subito in vantaggio con il gol di Citro dopo appena 5 minuti, poi la rimonta a Biancoverde, prima con il pareggio di Giosa all'inizio ripresa, poi con il sigillo di Fella ad un quarto d'ora dalla fine. In attesa di scoprire ciò che accadrà al Bitonto, a chiudere il tour dei ritiri di Serie C è la Virtus Francavilla. Bianco Celesti in ritiro a Chianciano Terme, ma con nessun test ancora in programma. Trocini punta l'attenzione sulla parte atletica e tecnica, in attesa di raggiungere una condizione ottimale e prepararsi alle prime amichevoli per campionato.